Il film che state per vedere è la ricostruzione della tragedia che capitò a un gruppo di cinque ragazzi tra cui la giovanissima Sally Enderfield e il suo invalido fratello Franklin. La loro giovinezza rende l'episodio ancora più tragico. Il film che state per vedere è un resoconto della tragedia che è capitata a cinque giovani, in particolare a Sally Hardesty e a suo fratello invalido Franklin. Il fatto che fossero giovani rende tutto molto più tragico. Le loro giovani vite furono spezzate dai venti così assurdi e macabri che forse neanche loro avrebbero mai pensato di vivere.